Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Una puntata questa quasi interamente dedicata alla commemorazione in Palazzo del Pegaso di Massimiliano Pescini, il consigliere regionale scomparso prematuramente nei giorni scorsi all'età di soli 49 anni. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha commemorato Massimiliano Pescini con un ricordo sentito e commosso della consigliere regionale scomparso prematuramente il 25 maggio scorso dopo una breve malattia a soli 49 anni. I colleghi, il presidente dell'Assemblea Toscana, la giunta regionale, i sindaci della circoscrizione in cui era stato eletto, la famiglia e gli amici hanno ricordato la figura dell'uomo e del politico. Dopo un minuto di silenzio e un lunghissimo applauso, il primo intervento è stato affidato alla presidente del consiglio regionale. Salutando i presenti con un abbraccio particolare alla compagna Marina, con la figlia Giulia e ai genitori Silvano e Manola, il presidente ha sottolineato come chiunque abbia conosciuto Pescini, ne abbia apprezzato le doti politiche, ma prima ancora le sue qualità umane, le sue doti intellettuali, la sua capacità di essere punto di riferimento, di equilibrio e, molto spesso, di mediazione. Una persona gentile e con tutti, a partire dai dipendenti, generosa e competente, ha detto il presidente, che aveva una straordinaria capacità di ascoltare, di tendere una mano e di trovare una soluzione. Mazzeo, inoltre, ha annunciato che insieme ai colleghi il consiglio si è preso l'impegno di tenere vivo il suo insegnamento, con iniziative da promuovere insieme, perché i giovani e chi viene dopo sappiano chi fosse, quanto sia un simbolo che la buona politica esiste. La conclusione è stata dedicata all'impegno politico svolto con umanità e semplicità e alla famiglia che ha saputo proteggerlo con dolcezza nei giorni duri della malattia. Massimiliano ci ha lasciato causa una malattia terribile in soli 60 giorni e questa malattia si era manifestata proprio durante i lavori di un consiglio. Il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica, della politica fatta con generosità, della politica fatta al servizio della comunità. Massimiliano era sempre con il pensiero rivolto ai bisogni dei territori, ai bisogni della sua comunità, sia quella civile sia quella politica. insomma una persona che aveva in mente la politica come servizio e praticava la politica come servizio. Io con Massimiliano avevo un rapporto politico da tre anni, un rapporto personale di amicizia da dieci, quindi ovvio che i miei ricordi stiano più fuori dall'aula che dentro. Io ero reduce, sono reduce da una campagna elettorale fatta in quattro regioni, in giro per la Toscana, Lumbria, Le Marche e Lazio per le elezioni europee. Massimiliano lo sapeva e ha battuto, ha detto quando vieni a San Casciano, quando passi da San Casciano, dimmelo che vengo a darti noia. Alla fine la tornata elettorale ha voluto che il giorno scelto per andare a San Casciano fosse proprio il giorno in cui Massimiliano è morto e per me questo vuol dire qualcosa. Quindi è un messaggio su quanto è strano la vita, ma su quanto a volte le coincidenze siano incredibili. Massimiliano era prima di tutto un amico, un politico, una persona intelligente che utilizzava la sua intelligenza a servizio degli altri, il senso dell'appartenenza al proprio partito, alla nostra comunità, a quella del Consiglio regionale della Toscana, un sindaco al quale il proprio territorio voleva bene ed era una persona che ha lasciato un ricordo incredibile in tutto il Consiglio regionale e credo che sia stato un atto di dovere istituzionale, dovere fermarsi, ricordarlo e soprattutto portare alla memoria della nostra regione una figura di un valore politico di altissimo livello. È stata una commemorazione bella venuta dal cuore da parte di tutti. Io non lo conoscevo benissimo se non da questi tre anni e mezzo del Consiglio regionale e quindi diciamo quello che posso dire io è marginale. Però vista l'afflato con cui tutti si sono espressi, ho cercato di posporre i miei sentimenti a una frase del Foscolo che è poca gioia nell'urna, chi non lascia eredità di affetti e lui ne ha lasciati veramente tanti. Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Erano le parole che Massimiliano Pescini aveva scritto sulla pagina che apriva il suo sito. Parole condivise anche dalla sindaco di San Casciano Valdipesa, comune di cui Pescini era stato primo cittadino dal 2009 al 2019. Credo sia veramente impossibile dividere l'uomo dal politico. Massimiliano Pescini rappresenta la buona politica e ha sempre rappresentato una qualità altissima sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista di volontà nel capire e comprendere gli altri. La capacità dell'ascolto che poi si trasformava in azione politica. Lascia un'eredità pesante, ma sicuramente ricca e densa di tantissimi contenuti e un modo dell'approcciarsi alla politica che in pochi hanno e che sanno davvero fare non da soli ma insieme agli altri. L'Assemblea Toscana ha votato all'unanimità l'atto di surroga di Pescini. Al suo posto siederà sui banchi del Consiglio regionale. Fiammetta Capirossi, prima dei non eletti nella lista PD della circoscrizione Firenze che nella scorsa legislatura aveva fatto parte delle Commissioni Affari Istituzionali, Controllo ed Europa. Pensavo di essere più forte, invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo perché avevo promesso a me stessa che avrei dato un'ora a Massimiliano cercando di non piangere, invece così non è stato e ancora faccio fatica. Sono felicissima di poter rendermi utile al mio territorio. So che Massimiliano avrebbe detto Fiamma, vai e fai quello che sai fare. Quindi con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani che per me è un conforto incredibile spero di poter essere utile per il mio territorio, per la Regione e per il mio partito che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato. In Consiglio regionale, nelle scorse ore, c'è stato anche un incontro importante tra il Presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo e i rappresentanti della RSU dei lavoratori della ex GKN di Campi Bisenzio che da tempo chiedono proprio alle istituzioni regionali una legge specifica per i consorsi industriali nel frattempo proseguono nella loro protesta. L'iter della proposta di legge regionale per la reindustrializzazione della ex GKN procederà il più velocemente possibile ad annunciarlo il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo che ha incontrato la RSU della fabbrica di Campi Bisenzio rilevata da QF e attualmente in liquidazione. Il Presidente dell'Assemblea Toscana ha riguadito la vicinanza di tutti i capigruppo e confermato di aver assegnato in Commissione Sviluppo Economico la proposta di legge che la consigliera del Movimento 5 Stelle ha presentato a sua firma. Il testo della legge era stato inviato dalla stessa RSU ai gruppi consigliari dopo che l'Assemblea Permanente delle lavoratrici e dei lavoratori ex GKN lo aveva votato e fatto proprio ritenendo la legge fondamentale per procedere alla reindustrializzazione dal basso della fabbrica campigiana. Nel corso dell'incontro Mazzeo ha elencato i passi da compiere affinché la norma vada in aula il primo fondamentale riguarda la necessità che la Giunta regionale ne garantisca la copertura finanziaria senza la quale non sarebbe possibile portare in votazione la proposta di legge seguiranno poi le audizioni per valutare la fattibilità tecnico-giuridica della norma. Intanto ho portato la vicinanza di tutta la conferenza dei capigruppo l'impegno di aver calendarizzato in seconda commissione la proposta di legge che la collega Noferi ha presentato ora abbiamo una serie di passi da fare il primo trovare l'eventuale copertura di spesa perché senza una copertura di spesa quella norma non può andare in aula. Poi fare tutte le audizioni nel tempo più veloce possibile per cercare di capire la fattibilità tecnico-giuridica della norma. Gli uffici ci hanno detto con chiarezza che questa norma può andare avanti va vista nei dettagli alcune articolazioni su come strutturarla meglio insomma l'impegno è quello di far procedere il più velocemente possibile l'iter d'aula io penso che una norma di questo tipo seppur rivista sia importante in un tempo come questo in cui è necessario mettere in campo politiche di reindustrializzazione e penso che noi dovremmo perseguirla con forza. Spazio anche all'arte in Palazzo del Pegaso con la mostra Dentro il mare del fotografo Sandro Leonelli. Un viaggio affascinante nella mondo sommerso che regala sempre nuove e inaspettate emozioni anche a chi è abituato a frequentarlo quotidianamente. Sandro Leonelli fotografa il mare nella sua accezione più ampia e ricorda a tutti quanto sia fondamentale tutelarlo, proteggerlo, conoscerlo e riconoscerlo. Nello spazio espositivo del Consiglio regionale Carlo Azzeglio Ciampi è stata inaugurata la mostra Dentro il mare un viaggio nel blu della Toscana voluta e pensata per far conoscere i veri protagonisti del mondo sottomarino visitabile fino al prossimo 22 giugno. Questo viaggio è partito l'11 d'aprile del 2023 da Piombino fa parte di un progetto itinerante abbiamo viaggiato in tutta la provincia di Livorno e oggi siamo felicemente a Firenze a portare a nostri cari amici fiorentini un contributo e soprattutto una testimonianza del mondo sommerso. Ormai Sandro ci ha abituati a queste sue iniziative che appunto riescono a portarci fuori dai nostri perimetri diciamo abituali quindi insomma è con piacere che vedo nuovamente i suoi lavori e mi congratulo ogni volta con lui perché c'è sempre qualcosa di nuovo di diverso, di poetico diciamo così un po' come i poeti che usano nessuno meglio di loro usa le parole ma poi il contenuto non ha parole per essere descritto e così mi pare lui ogni volta che vedo queste foto io che sono anche insomma anch'io uomo di mare perché vado sott'acqua da sempre ma rimango meravigliato da queste immagini che sembrano uscite da un altro mondo insomma non da quello che usualmente si vede io sono legato a questa mostra non solo da un aspetto professionale perché appunto è parte della nostra missione come Guardia Costiera la tutela dell'ambiente marino e la promozione degli usi sostenibili e compatibili con l'uso da parte di tutti del mare ma anche a livello personale perché in questo percorso ho avuto la fortuna di accompagnare il curatore un po' in tutte le fasi e credo che sia un momento molto importante molto positivo perché la tutela del mare passa anche dalla promozione della sua bellezza perché davanti all'evidenza tanto semplice quanto meravigliosa di quanto è ricco il mare è più facile anche promuovere un'educazione verso le persone a un maggiore rispetto e a un uso consapevole della risorsa marina in tutti i suoi aspetti dalle aspetti ambientali alla tutela della pesca alla navigazione ai mille aspetti e le mille ricchezze che il mare ci può dare Questi erano i temi principali affrontati nella puntata odierna della Voce del Consiglio l'appuntamento come sempre è per la prossima settimana ovviamente su RTV 38 grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci a presto